Assessore Marcheggiani, terminata l'estate o quasi, si guarda l'autunno, i prossimi mesi, oggi presentate una nuova campagna per quanto riguarda la pulizia della città, ovviamente con la municipalizzata attiva. Sì certo, è una campagna di comunicazione molto complessa e ben articolata, che in generale parte dal discorso che bisogna educare i cittadini a dei buoni comportamenti. Sono stati fatti degli studi, sono state individuate le criticità e su questi atteggiamenti non corretti abbiamo insistito creando degli spot che poi andranno sui social, saranno divulgati in qualsiasi maniera e che mirano ad educare nel cambiare determinati atteggiamenti sbagliati. La città è di tutti noi e quindi il decoro della città è un patrimonio che aspetta ognuno di noi preservare e conservare attraverso dei comportamenti che sono virtuosi, tra virgolette, che sono quelli che noi qui in questo filmato abbiamo voluto in qualche modo, come dire, sottolineare e evidenziare un po' con una campagna che utilizza un audiovisivo, quindi buttare le cicche per strada, lasciare che i propri cani lasciano le deiezioni lungo il marciapiede senza raccoglierle, buttare degli ingombranti in maniera inconsulta sui marciapiedi o per le strade e sono comportamenti che non contribuiscono ad andare verso il miglioramento del decoro della città e soprattutto non lo faremmo mai in casa nostra e così dobbiamo fare in una città che è casa nostra.